Ciao a tutti ragazzi, sono Showbiz Game Zero Unix, un nuovissimo video quando la canzone a chiesa è la canzone dell'offertorio Ok, iniziamo Accogli i signori i nostri doni questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato tu in cambio donaci, donaci te stesso Accogli i signori i nostri doni questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato tu in cambio donaci, donaci te stesso accogli i signori i nostri doni questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato tu in cambio donaci, donaci te stesso grazie a tutti grazie a tutti daire.